Un bello della cabilità e siamo fuori a questo vero discattivo che è a farci fuori. La prima è un diritto e ci aspettiamo. Abbiamo dimostrato, lo possiamo vedere, che le istituzioni non ritornano. Il tema della partenza migliattiva, a chi siamo, senza cosa nostra, è la cabilità. C'è un diritto che è un diritto che è uscito dalla Costituzione, il diritto alla casa. Tutte le persone hanno il diritto a vivere in un tetto e non stare in mezzo alla strada, anche se non hanno un reddito sufficiente a pagare un pezzo di lavoro, un pezzo di ambito. Anzi, questo palazzo che è stato lasciato volato, che è stato abbandonato, è da una decina d'anni e quindi un diritto che è fatto di vivere, che diventa la casa del movimento per la casa. Vigita! 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 Vigilità! Casa Vigilità!